Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Fantasticamente Inge. Molti di voi mi conoscono già. Per chi non mi conoscesse, mi presento brevemente. Il mio nome è Francesca Martorana, sono un ingegnere informatico e mi occupo prevalentemente di sviluppo front-end e web design. Oggi, finalmente, inauguro il corso che mi avete chiesto da più tempo ma anche più insistentemente, ovvero quello di HTML. Questo corso è indirizzato prevalentemente ai principianti, ma sono sicura che anche chi conosce già questo linguaggio troverà degli spunti davvero interessanti. Cominciamo subito dalle basi, quindi a capire anzitutto cos'è HTML. Dunque, HTML è l'acronimo di Hypertest Markup Language che, tradotto letteralmente, vuol dire linguaggio a marcatori per ipertesti. Quindi, attenzione, l'HTML non è un linguaggio di programmazione, come molti dicono, ma è un linguaggio di markup. Anzi, oserei dire anche il linguaggio di markup per eccellenza e serve per la creazione di pagine web. Si tratta di un linguaggio di pubblico dominio, sviluppato in seno al World Wide Web Consortium, cioè il consorzio che presiede allo sviluppo del web e di tutti i linguaggi connessi, e l'ideatore linguaggio è Tim Berners-Lee, che è un ricercatore del CERN, il quale, verso la fine degli anni Ottanta, insieme alla definizione del protocollo HTTP, scrive il linguaggio HTML, che viene pubblicato per la prima volta nei primissimi anni 90. Ovviamente, all'epoca, HTML era un semplice linguaggio di formattazione di documenti, prevalentemente a sfondo scientifico. Sì, ok, aveva capacità di collegamenti per testuali, ma tutto in maniera molto sobria ed essenziale. In questi 30 anni si è sicuramente adattato alle nuove esigenze di comunicazione. Pensate che al giorno d'oggi i documenti HTML sono in grado di incorporare tecnologie avanzatissime, tecnologie che offrono la possibilità di aggiungere controlli anche abbastanza sofisticati sulla resa grafica, interazioni dinamiche con l'utente, animazioni interattive, streaming video, audio e tanti altri contenuti multimediali, ecco. E siamo oggi all'HTML 5, più precisamente alla versione 5.3. Benissimo, andiamo avanti. HTML è costituito da elementi. Questi elementi servono per etichettare i vari contenuti di una pagina e lo fanno tramite i cosiddetti tag, che sono le vere e proprie mattonelle di qualsiasi pagina web. Il compito di leggere e interpretare l'HTML è affidato al browser, quindi Chrome, Edge, Firefox, quindi lo strumento che di fatto ci fa vedere i contenuti della pagina. Bene, come facciamo noi a dire al browser che si tratta esattamente di un documento HTML 5? Lo dichiariamo all'inizio di ogni documento, attraverso un doc type, che attenzione non è un tag, ma è un'informazione per il browser su quale tipo di documento aspettarsi è. Ecco, mettiamola così. C'è da dire che per le versioni precedenti alla 5, la riga che dovevamo inserire nel doc type era decisamente lunga. Adesso invece questa dichiarazione è stata notevolmente semplificata. Infatti è solamente questa. Doc type HTML preceduto da un punto esclamativo e racchiuso tra le parentesi angolari. Attraverso questa dichiarazione, che attenzione appare solo una volta e all'inizio di ogni pagina, noi praticamente aiuteremo il browser a visualizzare al meglio i contenuti. Perché? Prima di ogni cosa diremo che si tratta di un documento HTML 5. Benissimo. Questo è un po' il trailer di questo film, ma vediamo di conoscere uno a uno tutti gli attori e cominciamo proprio dai tag. I tag sono nomi di elementi racchiusi tra parentesi angolari, che normalmente si presentano in coppie. Il primo tag è detto tag di apertura, il secondo è detto tag di chiusura. E va scritto esattamente come il tag di apertura, ma con uno slash davanti il nome del tag. E qui, infatti, vi ho scritto, vi ho fatto un esempio. Il tag che riguarda il paragrafo è parentesi angolare aperta e chiusa con una P e poi il tag di chiusura è esattamente lo stesso, ma con uno slash che precede la lettera P. Ora io, giusto per completezza di informazione, vi dico una cosa, però poi fate come se non ve l'avessi quasi detta. Alcuni elementi, per esempio l'elemento paragrafo, vengono visualizzati correttamente anche se dimenticate il tag di chiusura. Però è meglio non fare mai affidamento su questo, perché il più delle volte, se si dimentica il tag di chiusura, si verificano risultati ed errori imprevisti. Quindi ricordatevi sempre di chiudere i tag. Ah, altra cosa, lo standard HTML non richiede la scritta del tag in minuscolo, però diciamo che l'uso del minuscolo è fortemente consigliato dal consorzio, quindi è bene che impariate a scrivere subito i tag in minuscolo. Ok, andiamo avanti. In questo slide ho fatto un elenco dei tag più utilizzati, quindi c'è il tag body sicuramente che definisce il corpo del documento, poi ci sono le intestazioni che sono definite con i tag da H1 fino ad H6, poi magari nella prossima lezione ne parleremo in maniera più specifica. Poi i paragrafi che sono definiti con il tag P, le immagini con il tag IMG, i collegamenti con il tag A, le tabelle sono definite dal tag table e infine il tag title che definisce il titolo del documento. Ovviamente non preoccupatevi se ci sono cose che al momento non capite appieno, perché poi pian piano impareremo a utilizzarli a dovere. Per ora quello che sto facendo è un overview su tutto giusto per darvi un'infarinatura generale. Ecco, andiamo avanti. Bene. Elementi HTML. Un elemento è definito da un tag d'inizio, da alcuni contenuti e un tag di fine. Quindi attenzione, l'elemento HTML è tutto quanto, quello che parte dal tag d'inizio, comprende tutti i contenuti e finisce col tag di chiusura. Alcuni elementi non hanno contenuto questi elementi, li chiameremo elementi vuoti e proprio perché sono vuoti non avranno un tag di fine. Quindi, rispetto a quello che dicevo prima, non tutti i tag si dovranno chiudere, perché ci sono alcuni elementi che non vogliono il tag di chiusura. Questi elementi sono gli elementi senza contenuto e sono detti vuoti. Poi magari la prossima volta ne vedremo alcuni. Per il momento andiamo avanti. E parliamo di attributi. Tutti gli elementi HTML possono avere degli attributi. A cosa servono gli attributi? Gli attributi servono a fornire informazioni aggiuntive sugli elementi e vanno specificati nel tag di inizio, quindi nel tag di apertura. Generalmente gli attributi sono espressi in coppie, nome e valore. Anche qui ho inserito un breve elenco, ma ovviamente ce ne sono tantissimi. Tra quelli più usati c'è sicuramente style. L'attributo style ci servirà per aggiungere stile a un elemento, quindi a modificare colori, dimensioni, carattere e altro. Poi c'è href. L'attributo href, dentro il tag A, che come ho detto prima definisce un collegamento, ci servirà per specificare l'indirizzo a cui punta questo collegamento. Poi c'è l'attributo src, che dentro il tag che definisce l'immagine ci servirà appunto per specificare il percorso dell'immagine. E così via dicendo, non sto qui a confondervi le idee, perché tanto ne parleremo ampliamente a tempo debito. Per il momento andiamo avanti. E arriviamo all'ultimo attore di questo film, ovvero al browser. Come sapete, sul mercato ne esistono tantissimi. Il più utilizzato sicuramente è Google Chrome, seguito da Edge della Microsoft, da Firefox di Mozilla, da Safari e così via. Ce ne sono tanti. Tutti però hanno principalmente uno scopo, ovvero quello di leggere il linguaggio HTML e restituire agli utenti la pagina web pronta per essere fruita. Quindi il principale scopo del browser, non l'unico, ma comunque il principale, è permetterci sostanzialmente la navigazione sul web. Ok, andiamo avanti. Questa è la rappresentazione grafica di una struttura, di una pagina HTML. Come vedete, l'elemento principale di un documento è l'elemento HTML, che è aperto all'inizio e chiuso per ultimo. Al suo interno abbiamo due elementi fondamentali, head e body. L'elemento head è un contenitore per i metadati, quindi l'elemento title, l'elemento style, gli script e così via. Altri elementi che poi magari vedremo man mano. In questa immagine vediamo solamente l'elemento title, che è sostanzialmente il titolo che viene mostrato nella barra del titolo del browser o nella scheda della pagina. Ed è anche l'unico contenuto dell'elemento head che viene mostrato all'utente. Perché? Perché tutto il resto del contenuto di head l'utente finale non lo vedrà. Infatti, la parte visibile è tutta contenuta nell'elemento body, che è il vero e proprio corpo della pagina, che in questa immagine è rappresentata da quest'area bianca. E come vedete contiene tutto, quindi contiene titoli, contiene paragrafi, contiene immagini, collegamenti per tessuali, tabelle, elenchi, tutto quello che vediamo solitamente in una pagina web. Ok. Memorizzate questa struttura perché tra un po' andremo ad utilizzarla. Bene. Ora che abbiamo capito un po' come funziona e come è strutturata una pagina, vediamo subito come scriverla. Non ci crederete, ma tutto quello di cui avete bisogno è un semplice editor di testo. Quindi un banalissimo blocco note di Windows o un text edit se usate il Mac. Basta aprirlo, scrivere il codice, salvare il documento in formato HTML e poi aprire questo documento con un browser a scelta. Quindi un Chrome, Edge, Firefox, Safari che sia. Bene. Se usate Windows, io vi consiglio di scaricare Notepad++, che rispetto al bloc note, permette sicuramente una maggiore personalizzazione, esattamente come fanno gli editori di testo più evoluti. Però, a differenza degli altri, la licenza è libera. In descrizione, infatti, vi ho lasciato il link per scaricarlo gratuitamente. Solo per oggi noi useremo il bloc note, che sicuramente avrete anche voi tra i programmi predefiniti di Windows. Basta solamente cercarlo, e io infatti lo vado a cercare subito qui nella mia barra, blocco note, eccolo qui. Aprirlo, molto bene, e una volta aperto basterà andare a scrivere la struttura di base di una pagina web, come abbiamo imparato a fare nella nostra immagine di prima. Con CTRL++ aumento lo zoom, in modo che possiate vederci meglio, e comincio a scrivere. Ovviamente partirò dalla dichiarazione iniziale, ovvero dal nostro doc type. Quindi vado a scrivere doc type HTML e chiudo la parentesi angolare. Dopodiché mi costruisco la scrittura così come abbiamo visto nella slide di prima. Quindi dentro i tag HTML, magari lo distanzio così si capisce meglio, abbiamo principalmente due blocchi, head e body. Dentro head per il momento ho messo solamente un title, quindi magari qui dentro title vado a scrivere titolo della mia pagina, ok. Dentro il body ho messo per il momento solo un paragrafo, e qui dentro vado a scrivere ciao mondo, perfetto. A questo punto andiamo a salvare il nostro file in formato HTML. Quindi andiamo a creare nel desktop una cartella che useremo per il resto del corso, che si chiama HTML5, e dentro questa cartella andiamo a salvare il nostro primo file, che chiameremo hello world.html, lo salviamo, benissimo. A questo punto possiamo chiudere. Chiudiamo e se andiamo ad aprire la nostra cartella, troviamo il nostro file, facendo un doppio clic su questo file, si aprirà col browser predefinito, che nel mio caso è Google Chrome. Andiamo a provare subito, facciamo un doppio clic qui, e voilà, abbiamo la nostra prima pagina HTML. Nella scheda vediamo il titolo che abbiamo assegnato, titolo della mia pagina, e come contenuto della pagina vedremo l'unica cosa che abbiamo scritto nel body, ovvero ciao mondo. Bene, io direi che per oggi è tutto. Vi consiglio di esercitarvi, e se volete richiedere la guida che ho preparato ad hoc per questo corso, scrivetemi attraverso il modulo contatti del mio sito, che trovate linkato in descrizione. Poi, se questo tutorial introduttivo vi è piaciuto, lasciate un like o un commento, e per non perdervi i prossimi, iscrivetevi al canale.